Diventano certi i tempi per la riqualificazione di Corso Italia. Il progetto esecutivo con migliorativi significativi anche dal punto di vista economico è stato approvato pochi giorni fa in giunta. L'esecutività era fondamentale per il via libera ai lavori dopo l'abbattimento e il sondaggio dei terreni richiesto dalla soprintendenza. Collezionati tutti i pareri favorevoli con l'ultimo atto deliberativo di giunta, la ditta concessionaria dell'area per la riqualificazione potrà canterizzare e dare il via libera ai lavori di costruzione dei box auto e dell'area verde che caratterizzerà una parte fondamentale di città come quella tra il prolungamento di Corso Italia e la via Cervinia. Ci vorranno circa due anni affinché l'area possa ritornare anche bene pubblico verde salvo intoppi soprattutto di natura burocratica e di ostruzionismo praticato anche dagli oppositori del progetto.